e la salve a tutti sono theplayer96 e benvenuti in questo video e come vedete oggi non sono su minecraft o il raffreddore come sentite dalla voce non sto ancora benissimo ma non importa allora come vedete sono su call of duty mv3 mv3 sì mv3 no non è originale come potete vedere anche qui dal nome e difatti non posso giocare online perché avevo il gioco originale ma purtroppo mi è sparito allora ho detto vaffanculo me lo scarico allora facciamo una survival oggi giusto per vedere quanto tempo resisto sicuramente poco e scegliamo una mappa scegliamo una mappa una che magari non ho mai provato ma sì dai don che bella piccola spettem che carica intanto non so perché soltanto con minecraft fraps e di xstory mi registrano a 2 3 fps qua su call of duty sto usando fraps adesso 30 fps fissi come li ho impostato sì ragazzi gioco con tutte le impostazioni al minimo perché altrimenti non mi regge neanche call of duty sul mio computer ma non importa partiamo subito con voglia di ammazzare qualche qualche nemico qua dove stai vieni fuori metti fuori quella testa te coltello sì ragazzi non so giocare a call of duty poi è sul computer quindi sono ancora meno abile cioè guardate che mira guardate che mira cosa che ho fatto dai chi è che mi spara vieni fuori eh ce l'ho già fatta oh io qua su questa mappa non so dove è il potenziamento ma basta seguire quel coso e dovrei trovarlo eh che te l'ho lì allora quanti soldi ho? perfetto vediamo subito la scorpion vediamo se riesco no per poco vabbè intanto adesso abbiamo un'arma già migliore per ragazzi tenterò di ritrovare il gioco originale così magari vi registro qualche partita online intanto no dove cavolo sto andando? di qua ho il mouse troppo lento eppure ce l'ho già tutte le impostazioni al massimo dai carciofi venite fuori ma cosa urli? dai niente adesso qua ci muoio adesso qua ci muoio guarda 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 oh quanta gente porca miseria ecco sapevo io che ci morivo già una volta così ho già perso il potenziamento no 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 sta pistola fa schifo schifo porca miseria costano 3000 le submachine gun uh un 1.45 e sono sempre senza soldi ma porca miseria scusa ma mi ha tolto l'altra arma ma dai già una non mi basta quasi adesso mi campero qua dietro vediamo se mi trovano no vabbè dai odio camperare ragazzi oh 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 quanta gente quanta gente piano ricarica ah già è ricaricato cane di merda cane di merda cane di merda perché mandano i cani io voglio ammazzare dei poveri cristiani non dei cani ecco ragazzi sono già morto sono già morto tre minuti di partita ma si dai facciamone un'altra allora ritorniamo agli special ops si scusate ragazzi se ogni tanto interrompo il video magari a fine partita ma come sapete il problema del mio computer che mi sfasa l'audio col video se registro da troppo tempo allora stavolta proviamo a fare resistance che è quella dove duro di più dai 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 almeno arrivare al juggen out sto colpo si ragazzi come avete visto sono un pro della madonna in call of duty muoio persino contro la cpu al minimo salta di qua salta di là gira intorno al palo che cavolo sto facendo ragazzi aiuto vieni qua e dove corri beh non capisco mi sparano da 400 parti diverse stavolta stavolta non devo farmi ammazzare subito almeno vieni fuori tutti che camperano qua muori che cavolo è ma perchè devono parlare in russo su sto gioco ok almeno un'ondata ce l'abbiamo fatta velocemente vediamo se ci arriviamo anche alla seconda se ragazzi sento che non ho mai fatto video di call of duty non so come cosa come come commentarci sopra perchè minecraft diciamo che è semplice basta dire cosa si sta facendo ma si facciamo sempre la scorpion allora io non devo morire questo è definitivo vediamo se riesco oh 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 di già aspettate un attimo che lancia granate bastardo che poi mi fai saltare in aria ma qua ce ne sono un po' ma guarda come camperano è una cosa incredibile ragazzi eh e vai un'altra ondata fatta tu ricarica e muovi devo andare a comprare le munizioni prima che arriva l'altra ondata e ce muoio io ce muoio dai 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 corri allora compra munizioni si come vedete c'è il gioco in inglese mi ero dimenticato di dirlo allora io dovevo comprare era qua si questo qui perfetto così almeno riesco a mirare senza sparare colpi a vuoto no sapevo io che arrivavano ancora vivo madonna sono più duri i cani a morire degli umani basta vieni fuori no 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 cane 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 bastardo 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 vai via vai via cani di merda ma perché devono mandarmi contro i cani me lo sono sempre chiesto oh ta gente ma non è possibile sta roba chi muori ok ora dovrebbero arrivare gli elicotteri e se arrivano gli elicotteri io sono nella cacca fino al collo cacca fino al collo predator allora se non sbaglio un buon posto era qua se basta mettersi qua aspettare gli aerei e poi si gianciarli sopra una bombona allora si attivava col 4 vediamo se era vero sono gli elicotteri? no era la prossima ondata mi sa oh ma ma è possibile che arrivano subito ok ragazzi sono morto è definitivo anche stavolta io ma come esco da qua? così però sono arrivati tutti qua uh la la ma non puoi prendere tutte e due dicappato sparo con la pistola io ti ammazzo con la pistola muori ma dai ma dai ragazzi ce l'ho fatta ma io non ci credo corri 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 adesso mi arriva su di tutto ma perché spendo sempre soldi io? perché? 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 dimmelo tu finestra perché? ok facciamo f5 e così arriva subito se no dobbiamo aspettare tre ore ma non è neanche stavolta ma che ondata era allora? se vedete ragazzi che un po' che non ci gioco troppa gente troppa gente troppa gente troppa gente troppa gente mi tocca fuggire ma perché non muoiono? io devo capire perché non muoiono niente ragazzi io qua adesso ci lascio le penne sicuramente tu muori tu ricarica e tu scappa dai 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 che ce la faccio dai che ce la faccio ma vieni ma vieni un'altra ondata fatta anzi so che sicuramente vi starete annoiando ma non so cosa farci avevo voglia di fare una partita call of duty ho detto ma perché non registrarla così da spezzare ogni tanto i video sul mio canale da non fare sempre solo minecraft allora stavolta posso comprarla uh lo scarelle e anche questo perfetto eccoli lì gli alicotteri allora adesso qua sarà un po' difficile perché io non so usare sto cosa ok poi uno dove cavolo è l'uscita oh no 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 e curati oh vieni fuori wow e lo abbatte e lo abbatte e lo abbatte sto andando avanti più tempo del previsto quindi morirò in questa ondata oh c'è qualcuno? c'è nishu? dov'è? grazie mi ha preso l'adrenalina ormai qua non mi ferma più nessuno no 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 mo oh ora muoio ora muoio ora muoio Sono morto, sono morto, sono morto Niente ragazzi Direi che per questo video Su Call of Duty è tutto Da ThePlayer96 è tutto Ciao a tutti